All'inizio 10, 9, guarda la lombarda qua, se vede benissimo dal telefonino quindi non chiede se vede Io sono rimasto un castrato con un zaino la mezzo, era troppo grosso, lui come sapevo che stava Allora vai continua a chiamare, sto fatto la ripresa del bosco prima Ecco sulle ferrule, siamo sulle ferrule, troppo distante dalla rotta, si sente pure l'uva Eccoci sulla Monte Le Carbonere, e mica è da tutti, ma chi c'è qui è qua su, ma qui c'è veramente nessuno sulle carbonere, sulle ferrule Cioè guarda lo stanno, mezzo ai boschi proprio, bella come avventura E su come arriva la stata bianca c'è subito cosa, Castiglione Devo uscire nel pochetto però, un quarto da venti minuti minimo, ok ok Primo mero, vabbè, soltanto l'altro li chiamano meri Meri? Sono soltanto li chiamano meri, questo sarà un coso carsico A prescindere che a me non mi piacciono i luoghi chiusi Grazie a me Grazie a tutti. Il tempo dove uno mette dei cartelli per spiegare... Ah, infatti quello che si era per chiedere chi l'aveva fatto e che cosa significava. Bello, al centro di Milano. Ce ne sta un'altra che è stata, l'altra calda è bella, è pure bella da qua. Va bene, tranquillo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.